Cosa vuol dire per lei brevità? Brevità vuol dire dei racconti come la morte di Ivan Illich, come Billy Budd, come Cuore di Tenebra, come i racconti di Chekhov, in cui in uno spazio minimo si raccontano delle storie che potrebbero essere dei romanzi. Cioè brevità vuol dire anche una certa velocità nello stile, un certo ritmo, una certa musica, come la musica dei racconti di Hemingway, che corrisponde poi, diciamo, alla velocità che è un segno della vita di oggi. Cosa vuol dire per lei leggerezza? Vuol dire comunicare con le parole più semplici possibili un'emozione che tocca veramente la persona e il lettore.